Sono le ore 16 del 2 febbraio 2024. Siamo in località Pozzo Sant'Angelo, sotto al ponte. Questa è del 1958. Opera realizzata dalla Cassa al Mezzogiorno. Beh, col tempo qualche cosa si è sgretonato, però nel complesso, guarda, una bella armatura. Vedete, cemento armato. Questa è la parte più resonata, però, quella che mantiene stabile la struttura. No, sopra è meglio. Mentre gli stracci pilastri sono integri. Guardate. Vediamo un po' così. Mette così. E guardiamo da lì sotto, questo ottimo stato, quello pure, anche quella. Sono quattro pilastri di traverso e due esterni. La larghezza del ponte dovrebbe essere sui sette metri. La larghezza, mentre la lunghezza dovrebbe essere sugli otto metri, otto metri e mezzo. Non mi ricordo che un'altra c'erano i nidi di rondine. Ti penso, tutti questi anni. Se c'erano i nidi di rondine, qualcuno li ha torti qua. Eccolo qua, eccolo qua. Non mi sono sbagliato. Avete visto che mi ricordo benissimo che c'erano i nidi di rondine. Ecco i nidi di rondine. E' un'altra c'erano i nidi di rondine. Vedete? Questo è un'altra c'erano. Però nel complesso, ottimo lavoro. 1958 fino ad oggi. Meglio di così. Solo qui. Ma qui comunque, però sta sempre sugli ottonata. Però in abbondanza. Armature in verra. Qua è a buttone di contenuto in mantezza. In qualsiasi ora. Mentre qui all'esterno. Un po' sugli ottonata. Però nel complesso, l'interno è in ottimo stato. Guardate che bella armatura. Come un po'. Faccio una cosa così. Ah, ci sono due nidi di rondine. Uno qui. Un altro qui.